Ma guarda, a parte dei difetti è difficile trovarne per una scarpa di questa concezione. Non sono per nulla sorpreso dal fatto che questa Reebok Float Ride Run Fast 3.0 consenta a noi podisti amatori di tornare indietro di qualche anno, perché in effetti la scarpa si presenta in maniera tradizionale e al tempo stesso innovativa. Ma per capirlo partiamo subito dalle specifiche che ci parlano di una scarpa di 198 grammi, anche se nella taglia US 9, anche se nel modello che abbiamo testato sembra più di 213 grammi. Stiamo parlando di un Drop 8, 25 mm nel tallone, 17 mm nell'avampiede, secondo me le specifiche non sono esattamente chiare, ma al tempo stesso la sensazione che avrete correndo con queste Fast 3.0 sarebbe quella di un contatto al terreno. E dal tempo stesso una stabilità che raramente si trova in una scarpa invece più, tra virgolette, moderna, scarpa che sostanzialmente ha un'altezza dal suolo almeno 15 cm superiore rispetto a quella che stiamo raccontando. Parlando della Tomaya parliamo di un monomesh interessante perché comunque ha un ampio spazio nell'avampiede e quindi stiamo parlando di innovazione perché le marche adottano di solito una tendenza ad avere scarpe molto strette per le gare. Hanno dei lacci assolutamente piatti e minuscoli, una linguetta che nonostante tutto vi consentirà di tenere la scarpa ben allacciata e comunque avere una sensazione di morbidezza unica che altre scarpe non necessariamente offrono. Il tallone è anch'esso particolare, sebbene si pieghi in maniera abbastanza chiara, nella parte posteriore troverete comunque una stabilità intrinseca abbastanza elevata. Nonostante tutto questa scarpa è pensata per chi corre di mesopiede se non addirittura di avampiede. L'intersuola invece è assolutamente innovativa, la parte inferiore, il float ride, è in payback, mentre c'è un secondo strato superiore in eva che rende questa scarpa e il comportamento della corsa particolarmente interessante. Scarpa che secondo me è comunque morbida ma non così morbida come per esempio altre scarpe che tra virgolette vi fanno correre il 4% più velocemente. A livello di suola c'è una gomma presente su tutta la superficie con dei piccoli tacchetti che vi consentono nei cambi di direzione di correre davvero velocemente e di non aver problemi nemmeno durante la pioggia. Secondo me questa scarpa vi consente sicuramente di correre velocemente però la sua flessibilità che è abbastanza evidente porterà a correre velocemente solamente chi è in grado di portarla ai ritmi più elevati. Sono rimasto sorpreso dalla sua ammortizzazione che nonostante i 213 grammi vi consentirà di avere una sensazione di ottimo contatto al terreno ma al tempo stesso una buona ammortizzazione che pure ai ritmi lenti non crea grossi problemi a chi corre tradizionalmente con scarpe di questa tipologia. Per capire comunque come si comportano in corsa lascio la parola al mio amico e prodepodista Andrea Soffientini che è venuto a casa mia qualche giorno fa e ci ha raccontato tutti i dettagli di questa scarpa. L'ho intervistato nel frattempo voi stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Andrea buongiorno vedo che stai manipolando le tue nuove float ride di Reebok Fast 3 cosa ne pensi di queste scarpe? Quindi sono mie queste. Una bella scarpa leggera molto racing e morbida alla fine le scarpe racing sono sempre un po' durette erano un po' durette diciamo che scarpe così adesso se ne vedono poche e questa qua invece risulta morbida al piede. Una buona mescola mi ricorda un po' il Lunar di Nike che aveva dato delle belle soddisfazioni nei tempi sulle scarpe da corsa almeno a me piacevano. Un po' i precursori delle scarpe adesso con lo Zoom X o altre mescole molto morbide. E secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Queste qua sono scarpe per pochi secondo me sono scarpe per chi almeno corre sotto i 4 al chilometro in gara per gare sotto i 10 chilometri diciamo. Invece in generale potrebbe essere una scarpa per i nostalgici delle scarpe basse, scarpe racing, scarpe con un bel contatto sul terreno ma sono comunque relativamente riposanti rispetto alle vecchie scarpe che mi ricordo che chiamavo le piastrelle. A livello di peso del podista amatore le scarpe pesano pochissimo, 213 grammi ma a livello di peso del podista amatore che limite imporresti? Guarda ti dico che a sentirle vedi questa qua direi che è molto meno di 213 grammi, sono particolari, sembrano davvero leggere direi per runner sotto i 70 chili sicuramente per far le gare almeno al massimo fino alla mezza maratona. Una delle domande che ci hanno posto è scarpa rigida o scarpa flessibile in questo caso di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una scarpa relativamente flessibile, per essere una scarpa così bassa è tra le più flessibili che mi ricordi e ripeto, a parte che l'intersuola è fatta in due strati, uno un pochino più morbido, uno un pochino più duro, però è una scarpa che risulta abbastanza flessibile che accompagna il movimento del piede. Fino a quale distanze le utilizzeresti? Guarda la zarderei sulla mezza maratona per un atleta un po' come me che magari vuole correre in spinta quel giorno oppure per gare spuri e sotto la mezza maratona fino ai 5 chilometri. Cavolo quasi, forse sono scarpe da pista, stanno sotto i 25 mm. Se stanno sotto i 25 mm assolutamente lo utilizzerai anche in pista anche perché il battistrada sembra quasi una chiodata, quindi si potrebbero sfruttare in pista. Non so se sono omologate però sì, sicuramente sono sotto i 25 mm. Bisogna valutare questa cosa se no diventa una scarpa molto interessante per la pista. A livello di allenamenti anche per ripetute oppure soltanto per medi? No, no, assolutamente lo utilizzerei sulle ripetute, su qualsiasi lavoro veloce, quindi da un lento svelto fino a delle ripetute anche come i 400 o anche più corte. Si comportano molto bene, secondo me è un'ottima scarpa, davvero è particolare perché fascia medio-bassa di prezzo e invece si comporta molto bene in tante occasioni. A livello di calzata raccontavi nell'unboxing che ti vanno perfettamente quasi come un guanto, cosa ne dici? Si confermo, sono quasi abbondanti, la mia misura è quasi abbondante, ti direi che alla fine è molto comoda e quindi è una cosa che aiuta. Tante volte anche io ai tempi preferivo la scarpa un po' dura, un po' più stretta, invece adesso questa qua che è più morbida, è un pochino più larga al piede ma mi fa comunque sentire il contatto col terreno, mi fa spingere come voglio io. Alla fine la preferisco a quell'idea di scarpa un pochino scomoda. A livello di conchiglia, tallone, cosa hai notato? Che è morbido, cioè comunque è morbido ma non così tanto da perdere stabilità e quindi alla fine rimane protettiva ma non rompe le scatole diciamo. Battistrada è particolare, diverso rispetto agli altri, quali sono le tue sensazioni e soprattutto ritieni che in curva anche a velocità elevate abbia un grip buono? No, guarda il battistrada secondo me è super, per la tipologia di scarpa forse è una delle poche che mantiene un motivo che sembrano quasi chiodi delle scarpe da pista e risulta molto precisa e nelle curve come dicevi te rimane precisa ma perché è bassa rispetto alle altre scarpe. Quindi ottimo grip, bisognerebbe valutarla bene sul bagnato perché potrebbe scivolare un pochino perché comunque il battistrada è abbastanza duretto però secondo me senza problemi. A livello di intersuola parliamo del float ride, a quale altra intersuola questo float ride secondo te si paragona? Te l'ho detto mi ricorda Lunara nella parte, a parte che la mescola è fatta, sono due mescole una sopra l'altra, quella più morbida, con il float ride plus mi ricordo molto Lunara che c'era sulle vecchie Nike perché è morbido ma reattivo. E a livello di confronto di scarpe simili non molti comprano Reebok, tra l'altro le mie azioni Adidas le ho vendute e anche al tempo stesso Adidas sembra che abbia ricevuto delle offerte per vendere Reebok, cosa ne dici? Una scarpa simile mi ricorda un po' la Lunar Racer che avevo di Nike, non la Lunar Tempo che era un pochino più morbida e di altre scarpe particolari simili è difficile trovarne perché davvero è una scarpa a racing ma con una mescola morbida. Invece scarpe a concezione più moderna non ci sono secondo te? Guarda ti dirò forse come morbidezza mi ricordo la Mach 4 come idea proprio se dovessimo tirar fuori una scarpa è sicuramente più bassa, è un pochino più, anzi un po' molto più spinta questa qua. Ultima cosa, quali sono secondo te i pregi e quali sono i difetti di questa scarpa? Ma guarda difetti, il parto dei difetti è difficile trovarne per una scarpa di questa concezione quindi una scarpa leggera, una scarpa da gara e fondamentalmente nasce così diciamo bassa e scattante quindi fondamentalmente non ha grossi difetti. I pregi invece che secondo me sono fondamentali è che è una scarpa bassa, è una scarpa reattiva, è una scarpa da gara ma comunque ha una mescola morbida che salva un pochino la gamba poi nelle fasi finali della gara. Al contrario di quelle scarpe che dicevo un po' delle piastrelle che quando avevi la gamba dura dopo alla fine diventavano difficili da spingere. Mi piace tanto anche la linguetta che è molto racing anche lei ma è molto morbida e quindi non dà fastidio al collo del piede. Va bene grazie Andrea ci vediamo alla prossima speriamo di incontrarci in pista qua, spero che non diluvi però vediamo. Per ora tiene. Va bene ciao. Ciao.